oggi nelle foreste selvagge di conifori della val d'ultimo cantinato adige per porcini e guardate che grossa pinicola è oltre un chilogrammo guardate che grossa qua vicino c'è un bollitus eduris e là c'è la grossa e qua ce n'è un altro bello grosso bollitus e qua ce n'è un altro quattro in fondo la grossa pinicola uno vicino e l'altro è qua ed ecco i tre bollitus eduris e adesso raccogliamo il mostro che roba ragazzi guardate che roba ha quasi due chilogrammi è un mostro di bollitus pinicola guardate